Ciao a tutti cacciotti, benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft Ita Allora, come avete notato ieri non c'è stato l'episodio Cosa che avevo già preannunciato, l'ho detto all'inizio dell'anno scolastico Che non sarei riuscito a tenere lo standard tutti i giorni Non sarà l'ultima volta Però mi dà fastidio il fatto che tutti Dov'è Minecraft Ita? Dov'è Minecraft Ita? Allora, di solito Quando non faccio un episodio o qualcosa lo dico sulla pagina Facebook Come vi dico di seguire la pagina Facebook Non è perché è così Perché mi piace Perché è lì che do queste informazioni Così dopo evitate di dire Dov'è Minecraft Ita? Dov'è? Dov'è? Comunque qua sotto non ci passano le mucchette Perché arrivano qui Incontrano questo come blocco intero Vedete qua la sagoma Conta come blocco intero Quindi non riescono ad uscire Quindi sono al sicuro lì Molto bene, siamo nella 1.7.1 Sì hanno Rispetto al video di ieri Hanno fatto un'altra pre-release Perché c'era tipo un bug E quindi gli utenti Linux non riuscivano ad avviare il gioco Una roba del genere E GG Che figata assurda Che figata Che figata assurda Ma invito a guardare il video che ho fatto ieri Che cosa? The fuck? Il video che ho fatto ieri Ma what the fuck? Ehm Mappa Perché non funzioni? Mappa Mappa scelgo te Non funziona Aspetta provo ad avviare un attimo il gioco Ok le mappe sono bugate Quindi le buttate lì Sono cose che capitano Soprattutto quando cambi versione C'è in realtà non dovrebbe capitare Parliamone Però Comunque ora andrò a prendere giusto un paio di riz Di cane a zucchero Ehm Mi rifaccio un attimo le mappe Sì ok funziona Per un momento ho pensato Non è che non funziona proprio la mappa Mi hai detto che questa zona qui Nell'angolino Non è un bug Devo giusto andare ad esplorarla Va bene Ci andrò Andrò ad esplorarla Ah Ah Ok Ok Gna 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 Ehm Si è aggiustata da sola Quindi Gigi Chi è che chiama mamma MAMMAA Ecco Questa è la Whatsapp Ok Mentre andiamo ad esplorare un po' Il mondo E mentre mia sorella urla come un babbuino in calore Ehm Volevo farvi notare che Ho iniziato una nuova serie sul canale Quella di Sherlock Holmes Che non è una di quelle Quelle serie tutte Fomentate no Con quei giochi Mainstream So già che non farà le views Che farà Assassin's Creed O che fa Minecraft Ma è ovvio E' una serie scialla Che ho voluto iniziare Perché Ogni tanto penso che sul canale Ehm Ci possa stare Quelle che io definisco Questa è la 4 Questa è la 5 Quelle che io definisco le Le serie a corso chiuso No? Come nelle università Quelle serie che Solo alcuni iscritti guardano Ma che è che urla? Ah Ma perché Devo urlare? Ah Vabbè Ehm Le cosiddette serie a corso chiuso No? Famosissime le serie a corso chiuso Ehm E niente Ehm Penso che ci stiano Ogni tanto Perché Ehm Ehm E' come E' come se Gli iscritti che seguono Quella serie Si sentissero Dei bambini speciali Ehm E' a parte di scherzi A me Ehm Fa piacere Creare video Che non siano sempre Solo Minecraft Sul canale Fa molto piacere E quindi Ehm Quando non ho la possibilità Ne approfitto Ehm Però Non mancherà sul mio canale Anche Assassin's Creed 4 Ah Questa ha bisogno di essere Modificata Devo andare a esplorarla Devo andare a esplorarla Ehm Quindi Il mio layout Dovrebbe essere questo Allora I video al giorno Dovrebbero E con dovrebbero Intendo Dovrebbero Essere due Ehm Minecraft Di qualche tipo Alle due Happy Wheels Alle sette E alle quattro Eventualmente La serie Di Sherlock Holmes Ehm Ehm Aggiustati piccolo fapper Aggiustati piccolo fapper Aggiustati piccolo fapper Nananana Aggiustati piccolo fapper Aggiustati piccolo fapper Nananana 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 Invece Dal 20 novembre Cos'era Si Dal 20 Dal 30 novembre Insomma Da quando uscirà Assassin's Creed 4 Dato che ho anche Degli accordi Con Ubisoft Ehm La serie delle quattro Sarà una cosa Spero Sempre Fissa Ehm Faremo Tutta la campagna Un po' come Far Cry 3 Come quello che abbiamo fatto Per Far Cry 3 Ehm E cercheremo di Di farla per benino Per benone Ok Ah e naturalmente Vi invito a dare Almeno un'occhiata Al video Alla serie di Sherlock Holmes Se non vi piace Tranquilli Tanto è colpa di Brent Bello De' bello Una cosa che Vabbè Sono qui Naturalmente Sto Stominando un po' Naturalmente Non è che i miei minerali Siano Puttosto Granché Ehm Comunque Volevo far notare Non so se La mia impressione Perché Comunque Da tipo Tre giorni Che non gioco A Minecraft Quindi potrebbe Essere La mia impressione Però Sbaglio O nella 1.7 E 1.7.1 I contorni Dei blocchi Sono Più Marcati Non lo so Ho questa impressione Mi sta torturando Perché nel C'è Angelog Non c'è scritto Eppure Io lo vedo First world problems Il bordo di Minecraft È o no Più grande Di prima C'è Altro che fame Nel mondo Per favore Allora Che ne dite Polymining No Scherzato Ok Allora Ho scavato Per un po Ma Non ho Trovato Diamanti Purtroppo Questi sono I risultati Ho preso tutto Con il coso Con il touch Per questo Che ho Yours E non La redstone E il carbone E Quindi Per quanto riguarda Resto Con il lapislazzo Li aspetterò Di avere un piccone Con fortuna Spero il prima possibile Per fare Tutta sta roba Questi intanto Posso già cuocerli Che cosa è buona E giusta Soprattutto Perché mi da Un botto Di esperienza Quindi 8 Qua E 3 di qua Dove Dove averne Altra Del vero Qua sopra Quindi prendiamo Anche quelli Eccoli Altri 40 Vabbè A questo punto Facciamo così Molto bene Allora Cosa facciamo in questo episodio In questo episodio Voglio andare A Diciamo Creare Più che altro A sviluppare Quello che sarà Il nostro metodo Di esperienza Almeno Nel Prossimo futuro Cioè Voglio andare A fare una visitina Ad uno spawner Di scheletri Che mi avete Indicato Voi Tramite il feedback Sulla pagina facebook Che come al solito Vi ricordo Sulla pagina facebook Do anche Comunicazioni importanti Quindi Se per un giorno Manca Manca minecraftita E non sapete perché Andate prima a controllare Sulla pagina facebook Prima di spammarmi Ma minecraftita Ma minecraftita Più o meno Allora Ora Non mi ricordo bene Le coordinate E non penso di avere Lo screenshot A portata di mano Guarda quante pecole Quando ho fatto io Però non eravate così tante Puttani Allora Dato che lì Cosa è quello? Un creeper? No Sono Riz Perfetto Ehm Semplicemente Voglio dare un occhiato Da qui A proda A tracca A tracca A tracca Ok Allora Non ho una pala In effetti Ho appena minato Per tipo mezz'ora Senza pala Ma me ne accorgo solo ora Perché io posso Ok Tun 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 Ehm Bene Direi che per di qua Disponer Non ce ne sono Prendi che per di qua? Prima di girarci di là Tun 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 Allora Beh E anche di qua E che vera Chissà quanti Spawner Mh Mi sa che devo andare a cercare Il Il suddetto Screenshot Mi ricordo che c'era una X tipo 60 60 qualcosa Dovebbe essere qua vicino Là non c'è perché ho già controllato Mi ricordo Guarda lì c'è qualche caverna Che non ho esplorato Mh Magari è direttamente dentro la montagna Proprio da GG1-1 onore Che io savo Che io savo Che le cose Che le malari Attenzione Mh Interessante Beh scherzavo Non molto interessante Però mi piace sta cosa Figa Ok Ehm Mi sa che la cercherò Ehm Anzi Mi sa che andrò a cercare Lo screenshot Perché io qua proprio Non lo vedo Non vorrei Avere sbagliato isola O qualcosa del genere Proverò Farne giusto un altro lì Ok Io non l'ho trovato Ma fortunatamente Ho ritrovato lo screen Che mi ha inviato Giovanni Grazie Giovanni Ehm Le coordinate sono 61 1111 Coincidenze? Non credo Ehm Quindi vuol dire tipo Non proprio sull'isola dei funghi Magari anche metà nell'oceano 61 61 1111 Ah no E' nell'isola di Acente La cosa dei funghi Dai Aspetta No E' nell'oceano Perfetto Oh no Magari proprio qui Sarebbe epico 1111 61 E sali 1111 Wow mamma mia Che culo 111 61 This is the point This is the point Ora Se le coordinate sono corrette Dovrei cadere Proprio spiaccicato Nel Nel coso E Secondo lo screen Non ci sono manco Aperture Quindi direi Che userò la tecnica Del bianconiglio Cioè scavo Finchè il coniglio Non mi dice basta Era più o meno A Y20 No 24 Oh Ok Cos'era quel Go smorzato The fuck Allora Lo sto mostrando Tutto in camera Perché voglio farvi vedere Cosa c'è nelle ceste Perché giustamente Non me l'ha detto L'amico Giovanni Per lasciare la sorpresa Però direi che potremmo Fare una cosa di questo tipo No Sta giocando La Juventus Contro il Real Madrid No O Real Madrid Contro il Juventus Non so se è in casa O no O meno E Dato che il mio amicino Di casa è Juventino No E noi siamo napoletani C'è questa un po' La rivalità Amichevole Tra virgolette E Manco la name tag Porco il cane E Quindi niente Quando gioca il Napoli Beh in realtà Siamo solo noi Che esultiamo Quando Segnano la Juventus Vabbè Basta Ok Ora Quello che farò Sarà lavorare Questo posto Nel vero senso La parola Farò Un Complete Makeover Com'è che fa Quella che ha fatto Adessa Marcuzzi Italian version Che cazzo era Vabbè Quella che prendono Una casa La rifanno Questa è la sua MTV Non lo so Ehm E lo renderò Una farm Di scheletri Spero funzionate Insomma Quella è l'idea Affancato Ci potete vedere un pochino Però penso che vi farò vedere Tutti i vari passaggi Perché È effettivamente da un bel po' Che io non Non mostro E È proprio che non faccio Una farm Non sono aggiornato sulle ultime tecniche Io ho la mia Ho il mio Il mio metodo Che è quello che ho anche applicato a quello degli zombie Per chi se lo ricorda Praticamente io Creo uno spazio di spawning Colleziono tutti gli scheletri In un certo spazio Da quello spazio Li sposto in un altro spazio In cui ho il sistema della lava Ehm Che spero di fare con un clock Un po' più piccolo stavolta Perché nella Nella prima versione Mi occupava troppo spazio Ah ma qua è proprio vuoto vuoto Sì Vuoto vuoto Quindi A lavoro Ok Più o meno Il funzionamento Degli spawner In minecraft Funziona così Noi troviamo Uno spawner E Quando si tratta di Zombie Skeletri Ehm Insomma I mob Che ragni Penso Ehm Questo spawner Farà Per appunto Spawnare Mob Entro un raggio Di Otto cubi Ehm Quindi Da qui A qui Possono spawnare I mob Da quello spawner Quindi No 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 Scherzavo Sì No È 4 in totale O 8 Wait Mi sta avvenendo il dubbio Ok scherzavo In realtà è un quadrato 8,6 x 8,6 Che possiamo approssimare a 9 blocchi x 9 blocchi Con questo al centro Quindi faremo 4 da una parte Mi dispiace ma tu verrai chiuso Quattro da una parte Quattro Dall'altra Insomma Quattro in ogni direzione Per capirci Ci scherzavo tutto attorno Fino a creare Un comisissimo quadrato Delle bermuda Delle bermuda Ok Pessima Pessimissima Più pessima di così Si muore Oh la pisa da soli Non ho un piccone consiglio Touch Ma non me ne frega niente Sul serio Ok Ehm E una volta fatto quello Niente Passiamo all'acqua Ho due secchi d'acqua Sì Che culo Non mi ero manco preparati Guarda un po' te Ok Questa è più o meno la dimensione Per larghezza Ehm E lunghezza Ora si va in profondità Dobbiamo scavare Ma direi che Ops Ciao Come vedete Questa luce non bastava più Qua abbiamo Un livello 7 7 E quindi è spawnato Andiamo giù Di due bloc Key Please don't tell me I have to do something I don't want to do Please 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 Non vorrei Dover creare Io la base Far Stare i miei amicetti Sì ho detto amicetti Problemi Mamma mia Quanti problemi che mi fate Ehm Due dovrebbe bastare Senti Mortacci Le pippo Mettiamo una torcia qui E va affangata Ehm Dovrebbe bastare Dovrebbe bastare L'oro Per farmi compiacere Ok Compiaciuto No Ok Torna su Torna su Torna su Due blocchi dovrebbero bastare Due blocchi io intendo questo Quindi Ok Finisco di scavare Questo E ci rivediamo Ok Allora Questa È la È la stanza Completata Dovrebbe bastare Essere più che sufficiente Per lo spawn Che mi serve a me Che mi serve a me Non è corretto Che serve a me Ho scavato una linea Qua nel centro Ehm Che ora che ci penso Farò Bassa al doppio Per impedire Agli scheletri In qualche modo Di risalire Qua sto coprendo Piano piano Delle cose Potrebbero Dar fastidio Ehm Ci sarà acqua Naturalmente Non so se Mi sa che mi Ehm Necessiterò Di mettere Dei cartelli Perché non ho voglia Di scavare Tutto qua intorno Per mettere L'acqua in fondo Casino Cosa che in realtà Potrei fare Ma non ho voglia Ehm Da qui poi Porteremo Gli scheletri In alto Dove ho trovato Una Una Diciamo Un tunnel Delle minere abbandonate Che utilizzeremo Per creare La nostra zona Di exping Ehm Che voglio Anche curare Abbastanza Comunque Dato che si sta facendo Tardino Ehm Direi che per questo episodio È tutto Restate sintonizzati Naturalmente Nel prossimo episodio In cui Costruiremo La parte interessante Dello spawner Ehm Io faccio Uno screen tattico E vi saluto Ciao Trududutti